da Ivano Nicolucci, Enrico Muccioli a Germano Montefiori, Silvano Prati tanti 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 che hanno lasciato dei segni importanti con questo strumento ma credo che Fiorenzo sia tra tutti questi a livello proprio artistico musicale il più grande perché è veramente unico nel suo modo di suonare questo è un brano che abbiamo scritto assieme negli anni 90 è una botta veramente di fortuna perché il pezzo è veramente bello ha segnato uno stile nuovo quindi buon viaggio, tocca a te, io non lo suono quindi ti tocca, cioè prego Fiorenzo Tassinari a te, io non lo suono 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 grazie a tutti grazie a tutti a te, io non lo suono grazie a tutti a te, io non lo suono a te, io non lo suono a te, io non lo suono